gravissimo incidente alla stazione della circunvesuviana di ercolano in provincia di napoli un giovane studente di 16 anni è rimasto incastrato tra il treno e il marciapiede mentre tentava di passare da un lato all'altro della stazione attraversando i binari il ragazzo quando ha visto arrivare il treno ha provato a saltare sulla pensilina ma non ce l'ha fatta ed è finito sotto le rotaie del treno in frenata è invece riuscito a mettersi in salvo un altro ragazzo amico del 16enne che pure aveva tentato di attraversare i binari sul posto le forze dell'ordine i vigili del fuoco e i medici del 118 che hanno cercato di liberare il giovanissimo le sue condizioni sono gravissime il giovane è stato caricato sull'ambulanza privo di sensi ma vivo anche se avrebbe una gamba tranciata dal treno il primo a intervenire è stato un agente della polizia municipale di ercolano in servizio nei pressi dell'area archeologica che dista pochi metri dalla stazione sentito anche il macchinista del convoio diretto a sorrento grazie mille